Stiamo raccogliendo i pezzi dopo quello che è successo nella scorsa settimana, il più grande crash del settore cripto dopo la questione Mongox ormai tanti tanti anni fa. Quello che è successo, quello che non è successo, l'uno recupera o non recupera, ragazzi ormai ne hanno stampate veramente tantissime, ma quello che dovrebbe prendere un po' di più la nostra attenzione dovrebbe essere la difesa di Bitcoin, la difesa della vera criptovaluta Bitcoin ma anche Ethereum in generale che stiamo cercando di sostenere veramente da tanto tanto tempo. La scorsa settimana abbiamo breccato dei livelli di supporto di importanza enorme ragazzi su tutte le criptovalute, fin quando lo avevamo fatto sulle altcoin che comunque già negli scorsi mesi avevano iniziato a performare in maniera negativa, ci poteva anche stare, ma a causa proprio della questione Terra Luna nella scorsa settimana Bitcoin ha breccato il minimo dell'ultimo ciclo semestrale, il minimo che aveva fatto ormai intorno a gennaio più o meno, e la stessa cosa anche Ethereum. Continua anche il break del cripto della DeFi che continua anche in questa settimana a riscendere, con una configurazione pattern di price action bruttissima ragazzi che la vedremo in questo video e anche Nasdaq, la correlazione con Nasdaq che si mantiene ancora abbastanza elevata e mette in seria difficoltà il mercato delle criptovalute. Tre mesi da qui a più o meno settembre ragazzi di grande difficoltà, dove dovremmo assolutamente resistere. La parola d'ordine sarà in questi mesi appunto solo questa, proteggersi a tutti i costi. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video dove andremo a riassumere un po' tutto quello che è successo nella scorsa settimana, poi andremo ad aggiornare tutti i grafici per vedere come siamo messi con l'analisi ciclica e l'analisi tecnica, quali sono i livelli e le possibili aspettative, ma questo terribile trend ribassista che Bitcoin ha visto crearsi negli ultimi due mesi con un meno 44% addirittura ragazzi lo vedremo oggi, decreta in sostanza la fine in maniera assolutamente diciamo precisa di quello che era una fase di mercato laterale perché in realtà Bitcoin ha breccato per la prima volta nella sua storia, ce l'aveva fatto in realtà un'altra volta, un anno fa, poi ve lo faccio vedere qualche netto fa, e brecca il minimo dell'anno del 2021. Quindi in sostanza ragazzi il trend si definisce ribassista teoricamente nel medio lungo periodo, poi andiamo a vedere un po' le conseguenze, le eccezioni a questo concetto. Allora un video super importante, ma prima di andare avanti vi serve la vostra attenzione perché è un video anche leggermente sponsorizzato, questo qui perché vi devo parlare anche di Young Platform per alcune novità che stanno mettendo sul piatto, quindi l'exchange italiano, quello che ha un numero di criptovalute tradabili molto 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 elevato, lista il suo token che è lo Young. Young Platform ragazzi ormai avete imparato a conoscerla, come sempre è veramente un exchange italiano molto molto semplice, dedicato soprattutto ai neofiti, a chi vuole imparare nel settore delle criptovalute, vuole anche apprendere questo tipo di mercato perché loro hanno anche una splendida academy dove attraverso quiz e una serie di giochi anche vi insegnano in pratica tutto il mondo della blockchain, tutto il mondo di Bitcoin. Questi i quattro diciamo principali prodotti di Young che poi sono la platform, quella standard, quindi l'exchange standard, quello però che devo dire la verità sta migliorando perché ancora ha pochi volumi, adesso ve lo faccio vedere, poi la classica ex step drop, adesso si chiama Young Platform Step e poi la academy, questa insomma è una piattaforma dove si possono guadagnare Young appunto risolvendo i quiz dell'academy, rispondendo alle domande insomma e tante altre cose. Ma la novità in realtà ragazzi è proprio il fatto che viene listato il token Young il 31 di maggio. Come si fa? Andiamolo a vedere. Allora questi sono i bonus che loro mettono a disposizione, poi ve li andate diciamo un po' a spulciare voi stessi insomma ragazzi, così andate a vedere se vi interessa questo tipo di token e quello che vi dà, probabilmente staranno dando dei benefit appunto per chi partecipa alla loro pre-sale. Come sempre vi lascio anche il link in descrizione con il bonus di benvenuto ragazzi di 25 euro e quindi insomma perché no alla fine se vi interessa comunque dare un'occhiata anche alla piattaforma perché in Italia comunque è una piattaforma estremamente semplice che sta facendo il suo percorso cercando di portare anche un po' di cultura crypto nel mondo italiano. Vi regalano anche questi 25 euro di bonus e andate a studiarvi un po' quello che fa il token Young. Vi faccio però anche vedere quello che è l'Exchange Pro proprio perché lo avevo aperto di nuovo oggi per vedere. Intanto vedete che il token Young arriva sul mercato fino al 15% di cashback per ogni acquisto, allora queste sono le promo che probabilmente faranno vedete proprio per il lancio del token quindi andatevi a studiare il tutto, non mi metto qui a studarvi la tokenomics ragazzi altrimenti il video mi viene infinito. Questa invece è l'Exchange Pro che migliora, devo essere sincero, migliora proprio con l'aggiunta di nuova liquidità e ha diversi cambi, insomma una piattaforma estremamente semplice però sicuramente più evoluta rispetto all'Exchange normale che è molto basilare ragazzi, però allo stesso tempo come sempre pro e contro della basilarità di questi tipi di prodotti da una parte abbiamo la possibilità di fare delle cose molto più semplici però con un'interfaccia diciamo estremamente semplificata. Quindi vi lascio il link in descrizione, 25€ con il bonus di Young Platform, andatevi anche a studiare questo nuovo sale del token Young e poi perché no fatemi sapere anche che ne pensate all'interno dei commenti. Va bene, allora andiamo invece all'analisi dei grafici, vi porto quello che è il nostro standard di piattaforma e siamo da Bitcoin ragazzi perché oggi veramente abbiamo tante cose da dirci e tanti grafici da guardare. Allora Bitcoin, questa shadow pronunciatissima con il crash che c'è stato il 12 maggio che ha portato addirittura a 25.000 dollari aggiornando il minimo dall'anno 2021 di Bitcoin. Il precedente era intorno ai 28, con questo minimo abbiamo aggiornato appunto la struttura e a questo punto a livello di struttura di medio-lungo periodo abbiamo una struttura un po' ambigua perché doppio massimo e minimo con un leggero minimo inferiore che io in questo caso non definirei ragazzi come un minimo diciamo confermato, lo definirei più come un doppio minimo quindi è una barra di congestione leggermente ribassata, un po' ribassista. Questo un po' ci dà anche l'idea del fatto che i mercati crypto in questa fase sono estremamente deboli ma ne avevamo già parlato e soprattutto Bitcoin non riesce a difendersi come faceva tempo fa anche se è sopravvissuto tutto sommato al crash di una delle top 10 crypto che ha provocato veramente danni enormi e anche a livello di fiducia diciamo nel settore oltre ad aver bruciato veramente i capitali di tantissime persone ha comunque un po' intaccato anche il senso di fiducia nei mercati. Crypto Bitcoin sta un po' riprendendosi, sta forse mettendo insomma tutte quelle che sono le sue cartucce a posto però in realtà i grafici ragazzi come da un po' di tempo vi dico non portano nulla di buono è il motivo per il quale è da mesi e mesi che vi dico assolutamente di proteggervi uscire dalla volatilità delle criptovalute al coin e abbracciare invece delle gestioni di portafoglio estremamente più prudenziali quindi con Bitcoin e soprattutto stable anche lì diciamo un grande problema legato alle stable anzi facciamo una cosa ragazzi allora se vi interessa anche un video dedicato solo alle stable magari ne parliamo in una live perché probabilmente in settimana andremo in live anche domani dopo domani su Twitch, domani non si può dire diciamo sul viola e andremo diciamo anche a parlare di queste cose quindi se vi interessa la questione stable scrivetelo nei commenti e ne parliamo perché ho visto che è un atteggiamento di enorme enorme attenzione in questa fase e capisco anche un po' perché da un punto di vista di analisi tecnica c'è poco da dire ragazzi trend assolutamente è ribassista con un classico A, B, C di correzione ora il problema è finisce qui la C di correzione questa è la questione da un punto di vista di analisi ciclica ci sono dei dati che ci possono portare all'idea che questo minimo del 25 potrebbe anche essere stato il minimo di chiusura di un ciclo mensile ciclo che con grande difficoltà non abbiamo visto ve lo faccio vedere in pratica qui dovrebbe essere teoricamente iniziato in questa zona tra l'11 e il 17 di aprile teoricamente io lo sposto più al 17 di aprile perché ragazzi perché questa struttura interna preferisco farla da 55 giorni piuttosto che da 49 perché è leggermente troppo corta se la facciamo da 49 andiamo a vedere anche Ethereum per esempio se ci conferma questo tipo di view per esempio con la struttura mensile perché proprio Ethereum stesso ragazzi vedete sul minimo del 18 sembra aver iniziato anche lui questo ciclo anche qui se andiamo a mettere le fasi di chiusura abbiamo 11 o 18 con questa zona di doppio minimo in sostanza ragazzi qui in mezzo per farla breve è iniziato un nuovo ciclo mensile quindi l'abbiamo anche visto in conferma su Ethereum cosa succede quindi e a che punto siamo da un punto di vista ciclico ragazzi allora su questo minimo siamo a 25 giorni se utilizziamo il minimo del 17 se utilizziamo il minimo dell'11 siamo a 31 giorni ora la questione comunque è difficile da decifrare perché ragazzi in teoria ci sarebbe ancora qualche giorno più o meno un paio di giorni circa per fare un nuovo minimo un doppio minimo e si potrebbe anche verificare tra poco perché proprio questo spike al rialzo non è riuscito in sostanza a dare grandi segnali quindi che Bitcoin provi a ritestare questa fascia di prezzo non è una cosa anomala e non dovrebbe molto stupire cosa ben diversa invece è l'asciato l'asciato ribassista 25k probabilmente è un asciato anche di impuzzo dovuta proprio a una fase di crash e di crash crash impulsivo quindi un dump non so ragazzi se Bitcoin vorrà proprio in prossimi giorni andare ad aggiornare quel asciato lì io al momento guardo più la struttura ciclica sulla base delle close dei cicli delle candele daily perché secondo me questa asciato lascia un po' il tempo che trova visto quello che è successo che chiaramente non può essere sottovalutato e non possiamo indicare una normale naturale sviluppo di questo trend in quanto anche Bitcoin è stato oggetto delle vendite proprio per l'attacco a luna allora questa struttura sicuramente è un nuovo ciclo mensile che probabilmente sta andando a chiudersi la questione è che appena avremo un primo settimonale a rialzo avremo la conferma che è iniziato un nuovo ciclo mensile di Bitcoin allora la questione è questo nuovo ciclo mensile fa parte in teoria del vecchio ciclo semestrale che è già ribassista e quindi non si va da nessuna parte perché o inizia un nuovo ciclo annuale Bitcoin oppure si scende teoricamente magari un laterale ribassista e non una picchiata come questa qui ma non c'è soluzione ragazzi si deve scendere per altri tre mesetti questo è il problema ed è anche molto grave perché a quel punto se Bitcoin vorrà fare una picchiata poi nei mesi successivi quindi un arrivo teorico a 20k come si sta dicendo in giro per la rete non è una cosa da sottovalutare non è neanche una cosa molto strana ora l'idea che questa struttura ciclica di Bitcoin che si è iniziata qui il ciclo annuale di Bitcoin adesso già virato appunto al ribasso con questa struttura come era il ciclo ribassista anche su ADA per esempio che l'avevamo già visto e su altre cripto questa struttura può iniziare comunque una fase di ripresa ma in teoria dovrebbe andare poi a concludersi proprio in una situazione del genere quindi con un atteggiamento del genere è vero che in questa fase potremmo assistere a una laterale o tendenzialmente rialzista come trend però è anche vero che è pericolosetto cioè possiamo anche avere un trend che può essere molto spento pericoloso che magari non ci accorgiamo neanche che si sviluppa insomma tutto cambia dopo l'ultima settimana che veramente ha intaccato quelli che sono i fondamentali da un punto di vista di trend e di analisi tecnica di Bitcoin stesso per non parlare del resto delle cripto non ce n'è una che si salva ragazzi quindi sono tutte virate al ribasso i trend e i cicli annuali questo significa che siamo assolutamente in bear market e quello che ci eravamo detti qualche mese fa è diventato una conferma ufficiale data anche dai prezzi purtroppo è così è anche vero che se facevamo questo atteggiamento verso la fine dell'annuale non mi spaventava perché la chiusura di un ciclo annuale ribassista ragazzi va bene in una fase di bear market non mi spaventa ma visto che l'abbiamo fatto tre mesi prima della naturale conclusione del ciclo annuale un po' la paura c'è quindi Bitcoin in realtà ha anche una possibilità un po' particolare di cui parleremo nei prossimi giorni nelle live ragazzi perché ha la possibilità di aver troncato un ciclo annuale corto però è un po' come andare a cercare il perone l'uovo al momento non abbiamo nessun dato quindi io direi di stare sul dato oggettivo che stiamo seguendo da inizio dell'anno il ciclo annuale di Bitcoin virato al ribasso abbiamo un altro trimestrale da andare a fare che probabilmente avrà una campana rialzista leggera nelle prime fasi vediamo se è tra un paio di giorni tra qualche giorno dopodiché si ritornerà a scendere oppure a fare barra di congestione quindi la soluzione migliore per questo tipo di ipotesi che è la più probabile dei mercati cripto è che crociando le dita Bitcoin riesca a fare un ampio trend rialzista nei prossimi giorni nei prossimi due o tre settimane e poi inizi un laterale ribassista fino alla fine dell'estate questa è la soluzione che io ci metterei la firma ve lo dico proprio francamente anche perché potremmo andare a fare magari un nuovo taci doppio minimo in pratica quello che abbiamo visto nello scorso annuale cioè quello che era stato fatto esattamente ragazzi nell'annuale del 2021 come è stato chiuso vi faccio vedere la struttura uno spike che è questo qui dopodiché una ripresa e un lento declino con un aggiornamento dei minimi o poi una ulteriore ripresa fino al minimo finale questa è la soluzione madre migliore che secondo me possiamo attenderci nei prossimi tre mesi io metto la firma ditemi dove devo firmare e la mettiamo lì però al di là di questo l'ipotesi rialzista è solo un'eccezione del mercato quindi che sia finito il ciclo annuale in un periodo estremamente breve 300 giorni di solito non fa così è possibile comunque lo vedremo ne parleremo nelle live che facciamo questa settimana però quella è un'eccezione ragazzi ci può stare quindi comunque magari il trading insomma o l'attività di investimento o un breakout rialzista si può tranquillamente fare per una diciamo proteggendosi come sempre abbiamo detto ragazzi quindi senza consigli finanziari però in sostanza la possiamo delegare a un 20-30% di probabilità almeno al momento perché non abbiamo dati sufficienti questa ipotesi invece laterale come quella che è stata fatta nel 2021 sarebbe l'ipotesi magica secondo me cioè la migliore di tutte perché poi c'è l'altra ragazzi l'altra è terribile e questo è il discorso perché l'altra ci spinge ad avere un inizio di un nuovo trimestrale molto 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 spento una cosa del genere con poi un breakout e la conclusione è fatta così quindi il raggiungimento dei 20k in questo tipo di contesto è possibile perché il mercato ha iniziato proprio una spirale di natura ribassista secondo me Bitcoin può farcela a non fare esattamente quello che ha fatto nei vecchi bear market quindi non andare troppo giù c'è anche da dire che la correlazione con Nasdaq è molto forte quindi bisogna capire anche che cosa farà Nasdaq abbiamo chiuso 7 settimane rosse di fira su Bitcoin mai è successo nella storia questo vi dice anche quanto è debole il mercato ragazzi nemmeno la serie storica riesce a tirarlo su è ovvio che è stato causato da un evento esogeno che è difficile che si ripeterà ma è anche da stare molto attenti perché abbiamo visto la vulnerabilità delle criptovalute a differenza di Bitcoin che invece è esente da questi tipi di problemi abbiamo visto la vulnerabilità dei protocolli della DeFi anche di uno dei migliori protocolli che era stato fatto diciamo sì sicuramente con grandi lag grandi bug da un punto di vista di struttura perché c'erano dei pericoli e dei rischi che erano abbastanza evidenti se ne erano parlati per me insomma infatti diciamo la consapevolezza di investire in questo sito di progetto legato proprio alla rischiosità che aveva lo stesso progetto ma non è detto che questo atteggiamento non venga poi replicato anche su altre criptovalute sarebbe un disastro quindi io attenzionerei questi prossimi mesi ragazzi e come vi sto dicendo già da un po' dovete fare molta attenzione alla vostra al vostro livello di rischio del portafoglio se volete sopravvivere a questo tipo di mercato andiamo anche a vedere la total market cap della DeFi che come vi avevo accennato sta costruendo uno dei peggiori pattern possibili cioè ha fatto un intanto il nostro DeFi short reversal pattern che seguiamo da tre mesi ragazzi si è verificato alla perfezione ovviamente innescando un flash crash anche quello tutto dipinto ragazzi come vi dico da inizio dell'anno perché è normale che avrebbe fatto una cosa del genere perché un break chiamato del livello di supporto dei 100 billion non poteva non dare adito a un flash crash in quanto i mercati cripto sono troppo veloci e non avremo una conferma di ingresso a chiusura della settimana dice allora prendo posizione i mercati quando se ne accorgono vanno tutti in sell e c'è stato un sell off pauroso sì qualcuno di voi dirà è stato un caso del caso luna però ragazzi l'analisi tecnica è proprio così che si fa ancora di più l'analisi ciclica la chiusura del ciclo annuale della total market cap della DeFi è arrivata con uno schiaffo enorme vedete che sta procedendo la struttura del ciclo annuale anche per la total market cap della DeFi questo era il nuovo semestrale ha fatto il suo massimo è virato totalmente a ribasso quindi ha breccato il minimo del ciclo annuale andando a indicare che tutto il ciclo annuale della DeFi adesso è ribassista bisogna andare a questo punto a trovare il minimo a livello di tempo però ci sono tre mesi ancora da giocare questa partita ed è qui il problema serio perché abbiamo visto come Luna è andata a crashare proprio in fase finale della chiusura del suo ciclo annuale lo so per qualcuno di voi questo sarà fantascienza ma ragazzi non è così perché i cicli non sono fantascienza non è astrologia non c'entra niente con questa cosa ricordatevi che la natura stessa nel mondo in cui viviamo ha queste strutture cicliche quindi è anche scienza da un punto di vista di creazione di questa fase di minimo vedete qui abbiamo il breakout di questo livello dopodiché il mercato farà un jump probabilmente e poi se ne andrà in chiusura di questa struttura ora il problema è total market cap della DeFi non ha e lo ripeto non ha livelli di supporto non ci sono l'ultimo livello di supporto è questo dove si è adagiato adesso il mercato cioè i 60 50-60 billion ragazzi poi come vi dicevo in un qualche video tempo fa questo mercato non ha supporti ed è proprio la gravità e la rischiosità di tutte quelle che sono le criptovalute top presenti nel settore della DeFi perché ragazzi perché possiamo tranquillamente arrivare a 16 billion perché il primo livello di supporto è teoricamente proprio questo qui cioè una catastrofe in termini di oscillazione perché vi faccio vedere la struttura in pratica dai massimi una cosa del genere è un meno 92% quindi un crash sistemico importante molto rilevante è possibile che questo tipo di crash si fermi assolutamente sì perché i mercati non hanno dato mai non hanno mai disegnato livelli qui dentro ragazzi quindi non abbiamo proprio possibilità di conoscere in termini di prezzo come può reagire questo mercato a prezzi inferiori a questa zona di supporto se questa zona di supporto dovesse andare a sgretolarsi vi dico già da subito che anche a livello di price action una long black candle quindi questa a meno 40 settimanali ragazzi voi avete visto una shadow pronunciata è il classico atteggiamento da pattern di continuazione di questo trend ve lo dico proprio chiaro cioè quando c'è una long black candle così con una shadow molto pronunciata che fa una cosa del genere poi recupera quel recupero è il gatto morto quindi dopodiché le settimane successive le candele vanno a coprire tutta questa shadow e addirittura a breccarla successivamente per andare a continuare la discesa questo è in teoria un pattern che si sviluppa in questo modo per molestando che poi magari avremo la settimana verde perché poi insomma non è che queste sono candele settimanali sicuramente il rimbalzino lo fa magari di una settimana respira ragazzi però è una situazione che non possiamo non tenerne conto perciò è proprio un ulteriore conferma di quello che vi dico da inizio dell'anno cioè la riduzione della rischiosità del portafoglio e della volatilità del portafoglio proprio perché soprattutto guardando questo tipo di grafici ci indica un enorme pericolo che si può verificare o si potrebbe verificare sull'ecritto del settore DeFi le più piccole ragazzi allora quale sarà è questo il problema allora quale potrebbe essere io nell'ultima live fatta con il cartello ho chiesto ai ragazzi che magari sono più afferrati sull'ambito informatico se secondo loro c'erano qualche bug possibile che potrebbe sfruttarsi proprio perché guardando questi grafici mi è venuto un po' il dubbio mi è venuto un po' il dubbio che si vada ad attaccare un'altra cripto allora in questo caso potrebbero essere le stable coin o potrebbero essere i protocolli della DeFi i protocolli di lending per esempio che hanno una massiccia quantità di liquidità presente allora bisogna fare attenzione le fasi vi dico anche la mia opinione sulla questione sulla fase attuale del settore cripto fra 3 minuti 3 secondi insomma ragazzi quindi lo so i video sono sempre un po' lunghi ultimamente ma ne vale la pena quindi state un po' a sentire perché in ogni caso secondo me questa fase non è una fase negativa per il settore cripto perché serviva al mercato comunque ne parliamo tra poco da un punto di vista di analisi tecnica analisi ciclica qui non c'è niente da fare ragazzi questo è un trend riperato a ribasso non c'è nessun segnale di ripresa sulla total market cap della DeFi e teoricamente mancano 3 mesi fino alla fine di agosto più o meno alla discesa qui in questo caso non c'è nemmeno quello che abbiamo visto prima su Bitcoin cioè non sembra nemmeno questo mercato in grado di poter optare per il discorso del fare la shadow rimbalzare in maniera più importante dopodiché andare magari a disegnare una struttura di doppio minimo non so ragazzi questo è sempre possibile vedremo se ci riesce però la caduta libera meno 40% nell'arco di una settimana stiamo molto attenti non ci sono supporti questi sono mercati saliti in poco tempo non sono mercati fatti da anni di strutture sono protocolli che hanno avuto il boom in un anno e mezzo due non sappiamo niente di quello che può succedere quando vanno in bear market ne abbiamo parlato x volte la DeFi il bear market è la prima volta che lo vede ragazzi veramente per cui bisogna andare a comprendere come reagiranno questi protocolli già diciamo il buongiorno non ci ha dato diciamo un buon buongiorno la questione è l'una va bene ragazzi andiamo a vedere anche la il Nasdaq e poi le ultime conclusioni punto sulla situazione e la mia opinione ragazzi Nasdaq continua inesorabilmente la sua discesa verso la chiusura di questo ciclo annuale purtroppo anche qui non c'è una vera soluzione in termini percentuali tranne un unico valore che adesso vi faccio vedere teoricamente mancherebbe anche qui l'ultimo rialzino e poi la parte finale di discesa a chiusura di questa struttura che dovrebbe essere l'annuale di Nasdaq prima della chiusura di tutti questi cicli ragazzi non se ne viene fuori da un punto di vista di trend questo ve lo dico quindi se iniziamo un trend lungo abbiamo sbagliato previsione abbiamo sbagliato i cicli non c'è un'altra soluzione quindi o si chiude prima si tronca prima e quindi c'è un'alterazione di questa cosa qui oppure noi continuiamo a lateralizzare e a scendere fino alla fine del ciclo annuale questo vale anche per per Nasdaq ragazzi al momento però c'è un'unica notizia positiva su Nasdaq cioè il fatto che dei massimi il mercato americano ha fatto un meno 30 un meno 30 che non è assolutamente male perché in realtà è già una buona dose di ribasso quindi è un accettabile come fase ribassista solitamente lo so non le fa così Nasdaq le ultime quelle pre fase di espansione monetaria dovuta alla pandemia questa qui si era chiusa con un meno 24 era un annuale abbastanza importante che questa si era chiusa molto meglio quindi soltanto vedete nel 2007 quindi 2008 con la crisi lima nel fallimento di mezzo pianeta in pratica abbiamo fatto un meno 53% ragionando in questi termini possiamo anche ipotizzare che questa fase di caduta controllata direi così dalle banche centrali perché sono le banche centrali in pratica che stanno muovendo i fili potrebbe anche innescarsi fino a un meno 40 e quindi proprio questa zona potrebbe essere la fase finale questa qui della chiusura di tutta questa struttura ciclica vediamo perché anche questo potrebbe essere insomma accettabile ovviamente ragazzi si tratta di aggiungere un altro meno 10 al mercato Nasdaq con tutte le dovute conseguenze sul mercato cripto allora abbiamo necessità di rimbalzare entro questa settimana e iniziare un nuovo ciclo mensile soprattutto su bitcoin e se non ci riusciamo andiamo in caduta libera probabilmente accorceremo dei cicli perché in caduta libera dobbiamo rivedere dei numeri perché saremmo troppo veloci e quindi poi cambieranno delle cose però ragazzi il mercato cripto aveva bisogno di pulizia questo io ve lo dico in maniera molto schietta e sincera lo so che non farà piacere a molti però tantissime cripto che erano nate come funghi speculative e create solo esclusivamente su questi diciamo schemini per fare leva finanziaria farming e tutto il resto avevano bisogno di scontrarsi contro la mare realtà perché ragazzi è il modo giusto di farsi le ossa è il modo giusto in cui un protocollo può veramente comprendere se ha senso e se ha la forza di continuare a innovare a creare delle cose differenti perché abbiamo visto veramente nascere protocolli di ogni genere senza capo e ne coda negli ultimi anni e soprattutto diciamo inventandosi questi spirali realziste un po' quelle che abbiamo visto anche con l'NFT attraverso e tutto il resto che sostanzialmente erano palesemente delle bolle ragazzi anche la DeFi era in bolla ed era una cosa abbastanza evidente proprio perché di reali casi d'uso poi ce n'erano pochi in una a dire la verità era uno di quelli e quindi un po' la necessità di avere una fase di consolidamento c'era ma è anche una fase in cui si potrà assistere poi un domani una volta che il consolidamento sarà stato fatto a una fase di rinascita ragazzi allora chi resterà sarà più forte per tre questo è il discorso un po' è necessario come quello che abbiamo visto nel 2017 2018 con la questione delle ICO la stessa cosa faremo qui e ci terremo quelli che sono i protocolli migliori veramente che hanno robusti in termini di team di struttura di ecosistema di tokenomics e di tutto il resto che dimostreranno probabilmente di essere veramente utili e apprezzati dal mercato solo in queste fasi e solo grazie a queste fasi di ribasso i mercati si consolidano e costruiscono le fondamenta di una maggiore forza una maggiore solidità per i trend successivi purtroppo le burrasche sono veramente brutte quindi mi raccomando Remi in barca vele basse e proteggetevi questo è quello che vi dico noi ci invece vediamo domani in una live dedicata dove faremo Ama e tutto il resto e vediamo appunto di proseguire diciamo con questa con questi video di formazione soprattutto in queste settimane veramente delicatissime ragazzi ok ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti